La promessa d'amore di Lorenzo Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Sara, la promessa d'amore di Lorenzo Per le troniste di Uomini e Donne è giunto il momento della scelta finale. Le anticipazioni di queste ore rivelano che anche per la bella Sara a Fifella è arrivata la fatidica registrazione finale che segue quella della scelta di Niloufar. Questa settimana, infatti, la bella Niloufar ha registrato la puntata finale del suo percorso trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5. Alla fine del suo percorso la bella Niloufar ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con Giordano che le ha detto sì. Annunciata la scelta di Sara Uomini e Donne. Le ultime anticipazioni sulla scelta di Sara a Fifella rivelano che ieri pomeriggio nel corso della registrazione del trono classico, la tronista ha annunciato di essere pronta per il fatidico momento finale. E così ha svelato che la prossima settimana farà la sua registrazione finale tra Luigi e Lorenzo. Prima, però, anche per Sara ci saranno delle esterne all'interno della villa, dove proverà a conoscere meglio entrambi i due corteggiatori prima del momento conclusivo di tale percorso. Ma cos'è successo in questa ultima puntata prima della scelta finale?. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la tronista è stata protagonista di due esterne molto toccanti ed emozionanti con entrambi i due corteggiatori. Nel caso di Luigi possiamo svelarvi che il corteggiatore ha preparato per Sara un album contenente all'interno tutte le foto del loro percorso fatto fino a questo momento. Sara ha confermato che con lui sta molto bene e che prova delle emozioni molto forti, al termine dell'incontro tra i due che è stato un bacio intenso. . Sara ha già scelto Lorenzo. Successivamente vedremo la nuova esterna di Sara con Lorenzo, le anticipazioni ufficiali su Uomini e Donne rivelano che il corteggiatore ha scelto di portare Sara. . A casa sua per farle conoscere la nonna, una delle persone più importanti della sua vita. . La nonna di Lorenzo promuove Sara e dice che potrebbe essere la ragazza perfetta per sua nipote. . Successivamente Lorenzo spiazza Sara mostrandole una parte del suo armadio che ha liberato per lei, affinché possa mettere le sue cose il giorno in cui inizieranno la loro storia d'amore. . Io ti voglio nel mio quotidiano e nella mia vita, dice Lorenzo che quasi fa commuovere Sara. . Immediara la risposta di Sara, questo è il Lorenzo che mi piace e che immagino fuori da qua. . Parole forti che ormai toglierebbero ogni dubbio su quella che sarà la scelta finale della bella tronista napoletana. . .